Perché ridete? C'è molta timidezza in questo momento. È molto timida. Vabbè ricorderanno i momenti. Ah, c'è qualcosa che stanno per raccontare, aspetta. Devo dire che Marcello è una persona stupenda. È di una... A parte è una positività incredibile, ma poi... Maria è proprio il mio uomo ideale. Lui è proprio... Eh beh, Marcello è andato sempre... Ce l'ha tutto. Mi piace esteticamente, mi piace come parla, mi piace come affronta la vita, come ti ascolta, come mi guarda, anche come mi si esidera. Cioè, mi piace tutto. Vabbè, però non ce lo portare via subito. No, no, no. Cioè, fallo stare un po'. Marcello? Eh... Non è facile dopo queste parole, eh? Non sono abituato. Tranquillo. Confermo tutto. Sì, respira, respira. Respira. No, ho fatto una promessa quando sono tornato e la devo mantenere. È tutto... È tutto perfetto. È questo che forse mi fa paura che sia tutto perfetto. Spiro. Spiro. Sono emozionato. Sto andando.